E siamo anche oggi a lunedì e quindi come al solito come ogni lunedì facciamo la Crypto Week ossia la revisione per quanto riguarda il mercato delle criptovalute e andiamo a fare un po' di analisi tecnica sulla price action di Bitcoin e analisi fondamentale sul mercato in generale quindi andando a vedere le notizie che hanno interessato di più in questa settimana il mercato Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e come al solito andiamo a fare la Crypto Week quindi la revisione un po' in generale per andare a vedere cosa è successo in questa settimana come si sta comportando il mercato, dove sta andando in direzione, cosa potrebbe bloccarlo, ostacolarlo insomma cosa potrebbe succedere per questa settimana che stiamo incominciando a vivere ma prima di cominciare come al solito vi richiedo di lasciare un like mi serve tantissimo per crescere su questa piattaforma, di commentare qui sotto a qualsiasi domanda, dubbio o curiosità di andarvi a iscrivere al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare inoltre tutto ciò che dovrò a dire non sono consigli finanziari ma sono mie opinioni personali basate su esperienza e studi fatti nel tempo ebbene qui siamo davanti a CoinMarketCap come al solito che segna una capitalizzazione di mercato interessantissima, addirittura 1.4 miliardi di dollari quindi siamo oltre la capitalizzazione di mercato di Alphabet che sarebbe nient'altro che Google e quindi stiamo parlando comunque di uno dei maggiori colossi mondiali per quanto riguarda il mercato delle aziende americane, quelle più capitalizzate al mondo abbiamo un volume di transazione nelle ultime 24 ore che si aggira su 217 miliardi di dollari con una Bitcoin dominance che rimane salda al 60.5% abbiamo un Bitcoin che momentaneamente sarà a 47.700-800 dollari diciamo con un più 9.16% negli ultimi 7 giorni e un meno 22 e inoltre voglio mostrarvi il fatto che è riuscito a segnare ancora una volta purtroppo qui non si vede un nuovo all time high comunque abbiamo toccato un nuovo all time high su Bitcoin che ha fatto segnare praticamente i 49.000 dollari circa adesso vi vado a prendere direttamente il valore ed ecco qui segnato 49.487 dollari e tra parentesi sono certo che prima della chiusura dell'anno arriveremo tranquillamente ai 50.000 dollari in effetti hanno annunciato addirittura che arriveremo oltre 50.000 addirittura a 115.000 entro agosto però insomma di questo possiamo soltanto parlarne in maniera diciamo un po' immaginaria ma fino a quando non succede non sappiamo se è realtà inoltre abbiamo anche Ethereum che ha fatto 1796 dollari in questo momento con un aumento del 5.45% del valore e poi abbiamo tra le top 10 criptovalute Bitcoin Cash che fa un più 53% addirittura Binance Coin un più 77% e va a toccare un nuovissimo all time high che insomma porta una delle criptovalute una delle utility cripto più importanti al mondo sul mercato delle criptovalute a toccare quasi 150 dollari per singolo coin vi ricordo che Binance Coin non ha una cap massima ma ha un sistema di burn, coin burn quindi va a bruciare quantità precise di criptovaluta per cercare di mantenere la richiesta di mercato in base all'offerta che viene fatta effettuata proprio sul mercato stesso e andiamo a vedere le top 10 per quanto riguarda le top gainer della settimana abbiamo The Graph che fa un 140% Dash un 128% BitTorrent un 126% e invece andiamo a vedere le top loser della settimana vediamo Dogecoin che finalmente si mostra per quello che realmente è ossia una criptovalute che non vale nulla e non fa niente con un meno 25% poi abbiamo Elrond un meno 20% Ave un meno 7% insomma nulla di eccezionale però abbiamo comunque finalmente la conferma del ritorno alla normalità per quanto riguarda almeno il prezzo di Dogecoin andiamo a vedere poi il grafico di Bitcoin che mostra una salita nettamente positiva sappiamo benissimo che comunque in questi momenti di mercato è soltanto euforia quella che porta a mostrare questa forza nella crescita del prezzo intanto vi vado a segnare alcuni livelli di prezzo che possono essere dei livelli di prezzo chiave e come posso farvi mostrare in questo momento abbiamo comunque un livello importante tra i 44.200 e i vediamo subito quest'altro i 42.100 dollari che può essere un intervallo interessante proprio perché è la fine di questo momento di mercato e diciamo l'all time high del vecchio momento di mercato quindi è un punto che potrebbe essere interessante nel momento in cui dovesse andare a rompere uno di questi due livelli di prezzo potremmo vedere non un'inversione ma comunque un piccolo dump del mercato o comunque almeno per quanto riguarda Bitcoin vediamo comunque che la media a 20 periodi continua ad essere ed è anche esponenziale continua ad essere una media che comunque mantiene, sostiene il prezzo di mercato tutte e tre le medie sono totalmente in positivo la 20 sopra la 50 e la 50 sopra la 200 insomma siamo perfettamente in linea con diciamo le previsioni di mercato che avremmo dovuto mantenere una cosa interessante è andare a vedere che dopo questo momento quindi dopo il 5 novembre che è stato rotto la trend line di lungo periodo per quanto riguarda i massimi ha incominciato a crescere in maniera esponenziale il prezzo andando a creare una parabolica che molto sicuramente come successe proprio in questo caso e poi ci fu un drop capiterà anche la stessa cosa solo che il drop in questo caso sarà molto molto più importante altra cosa che dal mio punto di vista potrebbe succedere questo potrebbe essere un piccolo ripensamento prima dell'ultima spinta dal mio punto di vista questo ripensamento di mercato che stiamo vedendo in questo momento potrebbe essere paragonato addirittura a questo prima del vecchio all time high di circa 20.000 dollari quindi è un qualcosa da tenere presente e sicuramente può essere un buon momento per magari entrare nel momento in cui dovesse andare a rompere i 44.000 dollari entrare a mercato e attendere tutto il rally che verrà effettuato successivamente andiamo a vedere comunque il total hash rate quindi il totale potere di calcolo che viene applicato all'interno della blockchain di bitcoin e che momentaneamente è a 157 milioni di tera hash il suo all time high è stato toccato negli ultimi giorni a 165.861.000 tera hash sempre per secondo vediamo poi l'indice fear and greed che in questo momento è al 93 e nell'ultima settimana ha toccato l'83 quindi comunque siamo in totale avidità di mercato e tutti quanti vogliono entrare all'interno normalmente quando viene toccato comunque dal 90 al 95 di fear and greed c'è una piccola inversione di mercato e in effetti stiamo vivendo proprio in questo momento un piccolo ripensamento del mercato anche se diciamo che non possiamo parlare di un dump effettivo come al solito vi mostro la notizia che esce su Cointelegraph che non è nient'altro che la notizia per la quale riguarda che riguarda le criptoalute da tenere presente sott'occhio questa settimana quindi bitcoin, bitcoin cash, ios, xmr quindi con monero, xtz con tezos incominciamo con le notizie della settimana che vedono diciamo tre vari segmenti di notizie ossia le prime notizie che sono di limitazione e diciamo regolamentazione del mercato dopodiché due notizie che vanno a invogliare insomma il grande pubblico ad entrare all'interno del mercato con una adozione da diversi sistemi di pagamento importanti e poi l'ultima notizia che diciamo ha creato questo hype che ha spinto il mercato oltre i vecchi all time high incominciamo con Chris Lagrange anche noi nient'altro che la presidente della banca centrale europea che va a diciamo non confermare ma a mettere i puntini sulle i ossia dicendo le banche centrali non compreranno mai bitcoin da questo insomma possiamo né prenderci paura né tantomeno prendere le misure perché molto spesso queste informazioni lasciano il tempo che trovano proprio perché quando parliamo di banche centrali o comunque grosse istituzioni o aziende grandi è giusto che loro si mettono sulla difensiva perché altrimenti come è successo con Tesla e poi ne andremo a parlare potrebbero alzare un hype troppo importante però in questo momento insomma dal loro punto di vista parlare in questa maniera potrebbe addirittura creare un dump del mercato e quindi a dare la possibilità a tutti loro proprio di entrare all'interno del mercato delle criptolute loro dicono che non entreranno mai le banche centrali all'interno del mercato ma insomma questo lascia sempre il tempo che trova perché poi vediamo comunque sistemi di pagamento che avevano detto di no poi entrare e aprire le porte a tutti quanti come Paypal vediamo anche Asher Price che dice l'adozione degli istituzionali dimostra che il settore cripto ha bisogno di regole chiare e questa è un qualcosa di molto molto importante il commissario della SEC quindi stiamo parlando di una persona qualunque stiamo parlando di una persona molto molto importante e influente soprattutto all'interno del mercato degli investimenti sta incominciando a parlare di una possibile regolamentazione molto più importante e magari potrebbe diventare addirittura una specie di faro per tutto il restante mercato ricordiamo la SEC praticamente è un ente che va a gestire gli exchange in America quindi nel momento in cui c'è un qualcosa del genere in uno stato così importante così grosso così influente all'interno del mercato delle criptovalute potrebbe poi essere preso come punto di riferimento per tutto il restante mercato quindi dobbiamo sempre tenere presente e sott'occhio queste informazioni inoltre abbiamo un'altra notizia che potrebbe essere diciamo proprio la dimostrazione del fatto che le nazioni stanno incominciando a prendersi paura e inoltre purtroppo per loro la dimostrazione che noi abbiamo molta più forza rispetto loro dato dal fatto che le criptovalute sono decentralizzate ossia l'India sta per introdurre un divieto a tappeto su tutte le criptovalute non si sa se è reale o è insomma informazione un'informazione sbagliata proprio per dare un dump al mercato fatto sta che se dovesse succedere comunque la decentralizzazione del mercato delle cripto e quindi delle criptovalute stesse andrebbe comunque a favore di tutti coloro che vogliono comunque continuare ad accumulare e magari anche ad utilizzare le criptovalute quindi nel momento in cui ci si mette questo divieto davanti non è comunque possibile bloccare un qualcosa del genere a meno che non si tagliano i cavi della insomma di internet o non si bloccano i satelliti in quel caso beh allora incominciamo a entrare all'interno di una dittatura e non stiamo parlando più di uno stato democratico andiamo a vedere comunque Mastercard che annuncia di voler supportare le criptovalute entro fine anno e di questo incominciamo a capire che il mercato sta incominciando a prepararsi per una grossa adozione di massa e un'adozione di massa di un mercato del genere non farebbe nient'altro che andare a riversare grossissimi capitali anche da piccoli trader come possiamo essere noi stessi o investitori all'interno del mercato e quindi a farlo gonfiare, crescere e soprattutto a dare la possibilità a tutti coloro che sono già all'interno del mercato da diverso tempo di tirar fuori da questo mercato un vero e proprio diciamo tesoro e in questa maniera insomma Mastercard ha annunciato la possibilità di dare un supporto all'utilizzo delle criptovalute come metodo di pagamento inoltre anche Paypal con Apple che si era detta totalmente contraria all'utilizzo scusate non Paypal, Apple Pay che si era detto totalmente contraria all'utilizzo delle criptovalute ad oggi sta siglando un accordo con BitPay per dare la possibilità a tutti gli utenti di Apple Pay di utilizzare le criptovalute proprio come metodo di pagamento all'interno delle transazioni che si possono effettuare con l'Apple Watch con insomma lo smartphone e tante altre cose con iPhone diciamo non si chiama smartphone si chiama iPhone e l'ultima notizia che praticamente dovrebbe essere forse la prima che ha catalizzato tutto il mercato ha spinto in una maniera così tanto esponenziale al mercato da far arrivare determinate criptovalute che non avevano neanche più senso di esistere a livelli stratosferici come Dogecoin è stato proprio il fatto che Elon Musk per l'ennesima volta ha sparato una notizia esagerata in questo caso ha ufficializzato il fatto che Tesla entrerà in Bitcoin con un investimento di 1.5 miliardi di dollari in questa maniera il mercato ha avuto un pump stratosferico l'avete visto prima è andato addirittura a spingere il mercato dai sotto 40.000 dollari ha oltre in questo momento dove c'è stata la foto perché stiamo parlando comunque di notizia abbastanza vecchia oltre i 43.000 ma in questo momento sappiamo bene perché ve l'ho già detto prima ha toccato i 49.000 e passa dollari e da questo punto di vista possiamo capire che lasciamo perdere Elon Musk che comunque è una persona diciamo un nerd barra logicamente investitore tra parentesi è l'uomo più ricco del mondo in questo momento ma è anche vero che se viene ufficializzata una notizia del genere addirittura con di mezzo un'azienda come Tesla significa che il mercato si sta incominciando a fare interessante anche per persone del genere ok Elon Musk è come ho detto prima è un nerd ma se una persona del genere comunque mette il nome di Tesla davanti ai riflettori connettendola a Bitcoin insomma stiamo incominciando a parlare di un qualcosa che può avere un risvolto molto più pesante di quello che noi tutti quanti abbiamo potuto pensare fino ad oggi inoltre hanno anche incominciato ad accettare Bitcoin come metodo di pagamento per acquistare le macchine di Tesla quindi un qualcosa di esageratamente fuori dal comune dato che addirittura come abbiamo visto prima l'India vorrebbe bloccare tutte le criptovalute e quindi come state vedendo il mercato si sta muovendo in un'unica direzione quella dell'evoluzione evoluzione regolamentaria evoluzione di utilizzo dei pagamenti tramite criptovalute evoluzione di investimento con aziende di un certo livello come Tesla che entrano in un mercato che è ancora totalmente agli albori rispetto a un qualsiasi altro mercato finanziario come possono essere le stock o le materie prime e quant'altro io spero come al solito avervi dato il più informazioni possibile nella maniera chiara e concreta io vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace, commentare qui sotto iscrivetevi al canale andare a visitare il mio account Instagram DavideVasco85 e andare a visitare anche tutti i miei account di comunicazione e notizie ossia Crypto.verse su Instagram Crypto.verse su Telegram e TradeSanta Italia Official su Telegram grazie per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ragazzi